no vince simone ditemi quando e continuiamo chiaramente non è facile come sembra nei film passiamo avanti ah perchè stai inquadrando un bs stai inquadrando un bs oddio grazie oddio ma che cosa sto succedendo mi sembra un pizzo strano vi scatterete dei selfie e li trasformerete in capolavori oddio ragazzi no wow wow allora c'è sì c'è sempre c'è sì oh che bello va bene grazie Gianni grazie a tutti 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 grazie a tutti